Le vie, i piccoli angoli del borgo si animano, si animano di artisti, si amano di esposizioni d'arte. Quest'anno poi il concetto della meraviglia che abbiamo scelto come tema conduttore, mai come quest'anno appunto noi possiamo consentire ai visitatori di vivere una successione, di poter anche stupirsi di ciò che gli artisti riescono a rappresentare in quella meravigliosa cornice. Noi quest'anno ospitiamo Alessandro d'Aquila, Luciano d'Andrea Giovanni, Ursula della Roche-Vernay, Lauro Potenza, Amalia De Sante e altri ancora che sono segno e patrimonio di una impronta artistica che ci distingue.